The god himself, l'apprendista della strega, poi ce le imbustiamo per benino Dov'è quella magenta? Nice, allora, intanto me le metto, 121 questa Ah, dopo ve lo faccio rivedere 121, l'apprendista della strega Il grande mago Gianni Ah, numero 5 Let's go Perverrebbe anche un bel Gaia il Cavaliere, devo dire Gaia pure, ah, bisogna trovarlo Grazie Tobeg, grazie mille subgiftato, grazie Sergent Lock per i tre mesi Che cacchio è lo scaffo della Switcho? Dovresti guardare i magici video reaction per saperlo La Nintendo Switcho con lo scaffo Bene Molto bene Challenge 40 kill, oddio Può sempre fare, per carità Oh, ce ne mancano 12 adesso se non sbaglio di carte Vado un po', no, forse meno addirittura 12 Lo so, non lo so Andiamo Allora Andiamo contro Yasuo let al tempo Io prefer- Ah, io non sono un giocatore di Yasuo, eh Preferisco il Conqueror, se devo essere sincero Su Yasuo Su Ione ce lo vedo meglio, let al tempo Però È forte, quindi in realtà sta bene anche su di lui, è per carità Electrocut, electrocut Rest di Attack Severe Veramente in un altro meta Aspettiamo lì, babà Beh Che dire, follettine, follettine O ci hanno visto Oppure non pullano perché Shaco e Redwaff è lì che piazza le sue mille box, va bene Ma pullatelo, poverino Che cazzo Ma pure lisciato col tornado un centimetro Vabbè, ringrazia giusto che hai instapushato Che è questo vantaggino per adesso Liscio Ok Ok E si parte E si parte Yasuo una morte Jack sapì? Oddio, qualcuno conosce il culto Conosce il culto ragazzi Beitiamolo, beitiamolo Non sembra un conoscitore del culto Mia cugina si strofoglina i miei occhiali sotto le sue ascelle Torneranno le X Torneranno le X Eh si ha anche le Y e le Z Se ne ho voglia Oddio Più ignite per favore Mettetelo un altro Ho capito Grazie Chemical per i quattro mesi Bentornato Caro, bentornato Yasuo raga Fa veramente schifo il tornado Veramente, veramente schifo Ovviamente Ho tirato 1000 ignite E io Purtroppo sono morto Bruciato Mamma mia Mi hanno fatto arrosto Sì, cazzo Questo Yasuo mi dà speranza Il culto di Jack sapì è un possibile titolo di un uncut Il culto del Jack sapì? Penseremo Ci penseremo Grazie Fedes per il Prime Grazie mille caro Un po' di fare un salto in botlin Guarda quella bella Mish Fortune Vabbè Vieni Yasuo Vieni, vieni tesoro Una bella ammazzata In testa Eh Beh Molto ottimistica Sta palla di neve Devo dire Ma? A che distanza Mi ha fatto il fear? What? Non ero tipo Lontanissimo? Me lo son sognato Questi due buchi Dove sempre sentire una cosa dentro Salve signor Fieric Mi può dedicare un lume di controllo D L'abili L'abili È il flash Animo C'è la duro Ma dov'è che so pieno di soldi? Grazie Grazie Sigle per 18 mesi Bentornato Grazie Luca di 4 mesi Bentornato E me l'hanno appena tolto Il controllo Mi dispiace Non gioco con rap Perché lui sta accendo A maratoni con plano E non viene Bella Dado Minchia Dado è entrata Solo per scoccare la sub Oh mai Yasuo è top Qua mi prendo Una Se non addirittura Due plate Sa proprio che saranno due Questi in due Non ne fanno uno Comunque Bene Sono molto contento Vabbè Replate No I played Jax Ok Buona sapersi W Tobeg Cirdix Cento Grazie Tobeg Cazzo Dei beats Oh Ma che cazzo Ah io qua andrei Back Eh Eh sì Due volte Vabbè non c'ho mana Lascia stare Devo risparmiare Poi Devo risparmiare Devo risparmiare Devo risparmiare Poi Devo risparmiare Devo risparmiare Come stai Qua è scumpar Sono andato al drake Giustamente Ecco qua La contro La dedico Chi me l'aveva chiesto Qua ce la prendiamo Ovviamente Ok Cazzo Ce va ancora Mannaggia Vabbè Amen Ci ho provato Lì L'avessi stunnato Prima in visibilità Lo killavo E che non faccio danni Perché non ho Lich Bain Purtroppo ho comprato Altre puttanate Nel frattempo Eventi era molto meglio Qua Vabbè Primo che bullizza Morte Morte Meno male Visto il malfight Di prima Dai Ce lo meritiamo 3-0 Zaira Interessante Fammi la master Via che c'è Shaco sicuro Se fa così Pensi che sia cretino Vabbè Lui lo è sicuro No era solo pazzo Cioè avrei potuto killarlo Ero convinto ci fosse Shaco Per come mi aveva ingaggiato Invece è solo stupido Vabbè Ora Shaco potrebbe arrivare Sto registrando Sì Quindi È meglio non esagerare E prenderci la nostra Lich Bain Grazie Ray Stavern Grazie mille Del resab Bello Ben tornato Ben tornato Shaco abbiamo visto Che ha un particolare fetish Per la mid lane E non solo Quindi noi Ce ne andiamo E torniamo con la Lich Bain Anziché andare lì E rischiare Un'altra morte Inutile Ok Riusciamo a prenderci la torre Qua Sì Ok E questa è nostra Una bella first hour Ci piace Bello Eh no Stavolta Ci saluti anche te Tesoro Ok Bene Allora Shaco è qua Sicuro Questo spamma la Mastery Forse lo stanno flammando Per cui lo sta spammando Bei danni comunque Io ho la mia teoria ragazzi Per me Yasuo Sta spammando la Mastery Perché qualcuno Nel suo team Lo flamma Quindi è lì che Tipo Li sta Biemando con la Mastery Tobag Ecco tank Lo resping Con il nerf Bei danni comunque Ecco tank Si giocava Diversi anni fa Ed era molto meta Poco dopo l'uscita Non so Non è che mi ispiri tanto Dove essere sincero Non ho giocato i tempi Non penso Lo vorrà fare adesso Morti tu Va bene Andiamo con questo Qualcuno riesce Ad andarci E purtroppo Devo prendere la mid lane Va bene Niente Arrivederci Sparite Ok Bene Quello livello 11 Beh ha pushato Tutto il tempo Però comunque Più far mio Sui regeitone Ma killato Vabbè Ignite Se no non ce l'avrebbe fatta Grazie Indra Grazie S'ha giftato Caro Eh Tritian lucky Nel cervello però Fallo un po' prima Allo smite rosso La butto lì Evidentemente no Io raga vado di Mejai Porca puttana Cattivo E vado a killare tutti Adesso Mi faccio 20 E passo a stack Di Mejai E poi torno a One shotare gli aso E mangiare tutti i coglioni Non ne idea Nate Non ne idea Ora condiviso Expo con altri Non so se avete sentito Con che violenza Ho pigiato i tasti Sulla tastiera Con quale Atroce violenza E queste sono Un po' di stack La nintendo switch Con Lo scaffo Ciao carissimo Stas season Arrivo Silver Me lo sento Ma lo fa apposta Ma Barilo si Ma mi dice Che è sto tizio Barilo si Ha ha Ta 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 Ci mancava Grazie Geo Mad preach A noi mesi Bentornati Mi pareva sta no Che avesse ancora Tone da ranker Stasera Beh oddio Con gli alleati di prima In realtà Secondo me ne avevo già trovati Però non ho checkato Va bene, va bene Che lo stessi baitando Eh sì, purtroppo sì, ha baitato me Con la ulti, con tutto, vabbè Unlucky Ora che lo sappiamo, ragazzi Siamo più tranquilli Ora che lo sappiamo giocheremo di conseguenza Vabbè Proprio ho dei cooldown, ho ancora dei cooldown un po' alti Non ho cooldown redaction Va bene Questo è molto buono A posto Oppure l'ignite, a posto E niente Riprendiamoci ste stack, ragazzi Mancava Raziel, vero? Vabbè, dai Per tradizione Per tradizione ci vuole almeno Un game con un The Ranker Bello spottato Adesso però ci facciamo il Drake qua No, perché ganchiamo top con il Drake che sta spawnando Mi piace molto Mi è deciso making Però, beh Ci arrivo 390 Sparisce L'avevo usata la Q per andare sui minion E mo' ti in culo Ora il Drake è nostro E invece no Perché c'era Yasuo che ha fatto il jungler Va bene Che gli vogliamo dire, ragazzi Vabbè, oh Ma Ma come è full vita? Ma non more questa? Ma che cazzo è? Vaio, ragazzi Non parola Per quello che sta succedendo Buonasera Vabbè Ha preso l'oggetto Yasuo Non si killa più Grazie Fromm per i 9 mesi Bentornato Già o madre scrive Stas season Arrivo a Silver Me lo sento Attualmente sei Platino Ops E' riuscito a morire Perché ho killato io Se aspettassimi alleati Ma do 1, 4, 1, 5 Magari sono pre-made Non ho visto Sivir Magari pure Sivir Softinting Fiesta Può essere Magari pure Sivir E' della compagnia Eh, però Bravissima Oh Sgancia sti soldi E sgancia sti soldi Sivir 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 Alcuno Ha bisogno di una casa di cura Eccolo lì Il team che massacrava Mordekaiser Ok Con questo Cambieranno un po' di cose Almeno teoricamente Che è il mio main Poglione Grazie Stacca Andiamo di Zonia qua Vabbè ragazzi Ma è Shaco Ma cosa volete che faccia Poverino Lui ci prova a buildare danni Però non riesce a farli Io sono completamente squishy C'ho Nemmeno HP bonus Non mi ha fatto nulla Coraccio Coraccio Sì sto attento Oh no Aiuto Aiuto Tanto muore Questo Gesù ragazzi Mi stava killando Per me è imbarazzante Sta cosa Però va bene Va bene Siamo a un buon punto Adesso 22 stack Questo qua Lo prendiamo Bo Surrend A posto Grazie Nuno Grazie Nuno Vogliamo prenderlo Immediatamente Proprio Bello AFC Pezzenti Mordecaiser Rintanato Praticamente Chissà dove cazzo Mordecaiser Starà a cuccia Nella fontana Dunque Questo Un game Da Jax AP Altrimenti È impossibile Vincere Sarebbe stato Impossibile Vincere Senza Jax AP No Neanche Renekton Ce l'avevi fatta Avete visto il game Di prima Con Renekton Renekton Fulletide In late Non performa Granché Oh no Ho pigiato Per sbaglio Per sbaglio il flash Vabbè Killata di flash Chiaro Abbiamo visto tutti Grazie Ok Ok Ma con chi cazzo Stiamo parlando Qua eh Ma dove sei Sono io Quattro anni Di monoshaco Giocato Famoso flash Che fa danno Oh piante Box Coppie Tutto Ti ero giù Io Schiacciata Schiacciato Schiacciato La Shaco Non ci prova neanche Oppure Ho salvato Alistar Ah Goduria Schiacciata Affanculo Disrespect Supremo Tutti i miei video Pure in fontana Grazie Ciro Per il sabato 397 Grazie Fromm Per i nove mesi Jax il diserbante Ha fatto sparire Zira Con il diserbante Tutto più facile Grazie mille Dei beats Carissimo Grazie mille Non so che onorare Pattume atomico Boh Boh È vero Non so che onorare Boh Nuno dai Nuno ha scritto Surrende Timo ha preso il cazzo La botta intato Boh L'honor da solo Ancora non si può fare Quindi onoriamo Nunu 6-5 L'unico in positivo Oltre a me Dove è la maestra di Yasuo La rifaundata ragazzi Il posto game Guardate qua che roba Lasciamo stare Che è meglio Ci voleva Un bel Jax Per sgranchire